buongiorno aria di natale facciamo un'altra bottiglia ma questa volta utilizzeremo qualcos'altro utilizzeremo questo filo d'albero di natale a led e la bottiglia non la utilizzeremo così ma toglieremo praticamente questa parte di la patina che le ricopre perché questa patina è un'altra parte di la patina Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.